Stringetevi eh, chi è che manca? Ma chi sta facendo le foto? Lui! Ma sono tutti qua e le foto non le fa nessuno Il Carlo ci fa la foto Fanne almeno 15, almeno, che io te la faccio a te No, che siamo a posto? No, che c'è una ripresa A posto? Vamono